E ora parliamo di Expo, siamo ormai alla fine. L'Expo in Toscana si è tradotto in incremento del turismo ed esportazioni di eccellenze agroalimentari, lo ha detto l'assessore regionale Remaschi a Milano alla chiusura del Fuori Expo. Domani Expo chiude i battenti e si conclude anche la spedizione toscana a Expo e al Fuori Expo. E proprio al Fuori Expo, la casa delle eccellenze della Toscana nel cuore di Milano, stamani si è tenuto l'evento a conclusione della partecipazione della Toscana all'esposizione universale. È stato l'assessore Marco Remaschi a tirare un primo bilancio. Credo che possiamo definire con grande orgoglio questo periodo che abbiamo vissuto, che l'abbiamo fortissimamente voluto come regione toscana, l'abbiamo costruito insieme alle istituzioni, insieme agli operatori, ai nostri agricoltori, ai nostri rappresentanti e ambasciatori del territorio. Credo che sia un successo importante. Siamo qua per fare un punto della situazione. Siamo all'inizio di un nuovo percorso. Noi riteniamo che tutto quello che abbiamo seminato qua, lo stile di vita della Toscana, il buon vivere legato al nostro territorio, al nostro paesaggio, alle bellezze di cui la Toscana dispone, se noi riusciamo ad abbinarlo alle nostre tipicità, alle nostre eccellenze, alla qualità dei nostri prodotti, credo che facciamo un bel servizio per la Toscana e per l'Italia. Pare che i risultati, voglio dire, non diretti magari dalle attività di Expo, per i quali ci aspettiamo in futuro grandi opportunità, perché abbiamo avuto molti molti contatti con operatori internazionali, con i quali abbiamo sviluppato sinergie, ma indubbiamente questo percorso ci deve rafforzare in un quadro internazionale. Questo è quello che vogliamo fare. Il brand Toscana è un brand che è conosciuto molto all'estero e noi su questo vogliamo lavorare.